Visitare Fico per me è stata una bella esperienza e lo rifarei volentieri al più presto. È stato divertente soprattutto visitare le giostre e i vari stand, le varie fabbriche che si trovano. Siamo andati a vedere gli animali e la pussa non era così tanto sorrente. Ci tornerai, è stata una bella esperienza anche per uscire un po' dall'ambiente scolastico. Abbiamo fatto una vita e niente, è stato bello, molto interessante. All'interno si può girare in bici quindi è molto più divertente. C'è un giardino all'esterno in cui fare il picnic e stare insieme si sta bene. Ci sono molte cose particolari. Io che sono un amante del cibo mi sono trovata benissimo perché c'è di tutto. All'esterno. Grazie a tutti.